E' stato siglato questa mattina nella sala Mariella Cirillo della sede della città metropolitana di Napoli il protocollo d'intesa per l'istituzione dell'osservatorio di giovani professionisti. Il documento è stato sottoscritto dal sindaco metropolitano Luigi De Magistris ed è rappresentante delle associazioni giovanili degli ordini che fino ad ora hanno aderito, i giovani farmacisti, ingegneri, avvocati, notai, architetti, giornalisti e commercialisti. Scopo dell'osservatorio è quello di partecipare con funzione consultiva alle attività di competenza della città metropolitana, proporre iniziative, idee, progetti innovativi da sottoporre alla valutazione del sindaco e garantire un collegamento sinergico con le altre forme associative di giovani professionisti delle altre città metropolitane del paese. L'organismo fornirà in forma gratuita eventuali attività di consulenza e assistenza tecnica e professionale, concorrerà a determinare nell'ambito delle direttive del sindaco la programmazione, il monitoraggio e l'attuazione dei progetti finanziati con fondi ordinarie e comunitari. È una richiesta che è venuta anche da loro, ne abbiamo parlato insieme, ho fatto un decreto prima di Natale e adesso abbiamo creato l'osservatorio che è aperto anche ad altri giovani professionisti. È molto bello che il primo osservatorio formalmente costituito vede la partecipazione e la vita dei giovani. Credo che sia un segnale forte, un palazzo che si apre, laddove la politica tradizionale arranca, e l'abbiamo visto anche nell'ultima seduta del Consiglio metropolitano, c'è la politica della cittadinanza attiva che avanza. E questo è un nuovo modo di fare politica anche qui in città metropolitana. L'osservatorio è costituito da un rappresentante per ciascuna delle associazioni degli ordini aderenti, cui non spetterà alcuna indennità o gettoni di presenza, né altro compenso a qualsiasi titolo.